Ciao bella pupetta, come ti chiami? Concetta! E ti piace questo nome? Siiii! Concetta, che cosa stai ascoltando? Le canzoni di Corona! Ciao bella! S-senti Concetta, è ora che tu cambi il genere musicale! E allora dovete ascoltare! S-senti Concetta, che cosa stai ascoltando? E' scolta, è scolta, è scolta, è scolta, è scolta! S-senti Concetta, è scolta, è scolta, è scolta, è scolta! S-senti Concetta, è scolta, 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 è The rhythm of the night But the rhythm of the night Grazie a tutti. Grazie a tutti.